Unicredit Quindi immaginate la barca spandata mentre vado timonina posso timonare così oppure posso portarmi dall'altro lato i timoni ovviamente sono controllati a mano ma possono essere anche controllati tramite i piloti automatici In cui ci sono solo due a bordo Nel uno da questo lato, qualcuno dall'altro lato sono indipendenti tra di loro e si può scambiare tra uno e l'altro nel caso di una varia Qua ci sono i classici winch, questo piccolino viene utilizzato per controllare la volante, la volante aiuta a sostenere l'albero e si utilizza sia la volante sopravendo sia la volante sopravendo. Altri winch sono per esempio questi del Genoa e questo è il winch dell'Aranda e poi il carrello che controlla la posizione. Degli altri strumenti che vedete qua dietro, questo è un'antenna di un telefono satellitare che mi consente di ricevere email e di fare telefonate a volto, questo è un secondo satellitare di un sistema leggermente diverso, questo è un terzo sistema satellitare, quindi come vedete c'è un sacco di tecnologia a volto. Il resto invece sono dotazioni di sicurezza obbligatorie per la regata. Questa sarà la balise che invierà la mia posizione durante la regata, che voi vedrete aggiornata sul sito della regata ogni 4 ore, quindi è questo che invia la nostra posizione.